Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. Sono le 8.31, 58 secondi in questo preciso istante di sabato 11 agosto 2018, un cordiale saluto da parte di Marco Morosini, primo appuntamento con l'informazione locale in diretta sulle frequenze di Radio Nuova Macerata, appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani cartacei e dei quotidiani online. Partiamo, tutto in 20 minuti, dal Corriere Adriatico, edizione maceratese, gioielliera rapinata in strada, botte e minacce con la pistola, in due le hanno strappato la catenina e rubato una borsa con i preziosi, è accaduto Civitanova. E poi la fotonotizia ospedale, ecco i nuovi servizi, a Macerata potenziati reparti di oncologia, radiologia e neuropsichiatria, la giornata di inaugurazioni anche nelle strutture di Civitanova e Recanati. Macerata, anzi nel maceratese, un sindaco trova la moglie a letto con un'altra donna, l'episodio in una cittadina del maceratese, l'uomo pur sorpreso ha mantenuto la calma. Allarme caldo, porto Recanati, due malori in un negozio e poi Banca Marche, c'è un'ipotesi di rimborso per gli azionisti, così il Corriere Adriatico. L'apertura ora dell'arresto del Carlino Macerata, la fotonotizia dedicata all'iniziativa del giornale, nella morta del traffico, la raccolta delle voci dei lettori e poi l'SOS Sicurezza dopo l'aggressione alla farmacista Angelini, rapina sciocca alla gioielliera, minacciata con una pistola, Manola Paola Gironacci bloccata in auto tra Civitanova e Porto Potenza, due individui le hanno strappato borsa e catenina e caccia alla banda. Inferno in una famiglia, lei lo denuncia, botte e insulti alla compagna, scatte il divieto di avvicinamento, ma trattamenti trentenne allontanato da casa. A Pignano la gomma esplode, lo colpisce la testa, grave un ragazzo. E poi l'allarme nel mirino, gli anziani, truffe in serie sulla costa. Iniziamo ad approfondire le notizie di oggi. Partiamo dall'arresto del Carlino Macerata, qui in primo piano l'iniziativa, le voci dei lettori del Carlino. Tra i temi, il centro della tensione, auto a tutta velocità e caos sosta, più controlli in viale indipendenza. Il Carlino ha fatto tappa da Alma Lua a Colle Verde, le segnalazioni, le tante segnalazioni dei lettori che hanno partecipato all'iniziativa. Tra naturalmente i punti di vista che vengono analizzati c'è sicuramente il tema della sicurezza, soprattutto sulla zona dei giardini. Veri problemi, spaccio e mancata integrazione. Così la sintesi, potremmo dire, degli interventi. Le altre notizie ora. Il pianeta sanità. Partiamo dalla missione dell'Hospice. Dolore più sopportabile per i malati terminali. L'impegno degli operatori del Glicine. Lo scopo primario dell'Hospice è dedicarsi alle cure palliative e alla terapia del dolore per i malati oncologici. Attivo da oltre tre anni, conta otto posti letto per l'assistenza residenziale e circa dodici pazienti che vengono visitati a domicilio in tutto il territorio, da Sarnano fino a Treia. E sempre nell'ambito del pianeta sanità c'è sicuramente la giornata di inaugurazioni. Oncologia e radiologia, pronti nuovi locali. Presto altri cantieri. Parliamo dell'ospedale di Macerata. Qui nei dettagli, ambulatori per neuropsichiatria infantile. Polo unico o no, l'ospedale di un capoluogo deve essere al passo con i tempi e sempre in linea con le normative di sicurezza. Per questo continuano i lavori nella struttura sanitaria. Ieri sono stati inaugurati i locali delle parti di oncologia e radiologia tradizionale oltre ai nuovi ambulatori di neuropsichiatria infantile. È presentato anche l'ammodernamento della centrale termica per la verità risalente al 2014, ma mai inaugurato. Una spesa tutta a carico delle tre società che ne hanno l'appalto. Dunque una giornata importante. Le parole in sintesi di Alessandro Maccioni, direttore dell'area Vasta 3. Presto sarà installata la seconda risonanza magnetica. Lavori anche a rianimazione. Sul punto della sanità interviene anche il sindaco Carancini. Serve autonomia e dall'altro lato il governatore Ceriscioli. I intatti, i poteri delle aree vaste. Non decida tutto l'Asur. Il ruolo dell'Asur e volontà di proseguire con l'idea dell'ospedale unico sulla Pieve. Sono questi i temi al centro delle riflessioni fatte ieri dal sindaco di Macerata, Romano Carancini e dal presidente della regione, Luca Ceriscioli. Donne nel mirino, siamo a pagina 6 del Carlino di oggi. Pubblica sul web i video hard con le ex artigiano di 42 anni. Finisce nei guai, accusato di diffamazione e violazione della privacy. Non è stata una vendetta, ma soltanto una cosa fatta senza pensare. Una leggerezza, ma molto grave. L'avvocato Sabrina Serfaustini difende l'artigiano 42enne, accusato di avere pubblicato sui siti porno i video di quattro sue ex fidanzate. Le vittime sono tre del Maceratese e una del Fermano, sequestrati, naturalmente, pc e cellulari. Sul punto, inevitabilmente, non possiamo anche sottolineare l'inferno che le donne stanno vivendo. Un'altra storia che viene riportata da Carlino, non tanto sul fronte digitale, sui contenuti online postati, ma maltrattamenti veri e propri. Ragazza chiede aiuto ai carabinieri e denuncia il convivente, scatta il divieto di avvicinamento, maltrattamenti e minaccia la compagna allontanato da casa. Per mesi ha sopportato l'inferno domestico in cui la teneva il compagno, ma quando lui le ha messo le mani intorno al collo, mentre lei aveva in braccio la loro bambina di due anni, ha capito che non poteva continuare a lasciare, correre. Il tutto è accaduto in un piccolo centro del Maceratese. Andiamo ancora avanti, altro nodo importantissimo per la città di Macerata, più nello specifico della zona di Piediripa, ma dell'area commerciale. Parliamo della Orim, braccio di ferro con il comune e avanza il rischio cassa integrazione. Mancini contesta lente, non tutti i locali sono inagibili. Se non si svegliano, dovrò mettere i dipendenti in cassa integrazione. Alfredo Mancini, titolare della ditta Orim a Piediripa, dove il 6 luglio scorso divampò un grosso incendio. La mente è i tempi lunghi della burocrazia. Ancora notizie, ci spostiamo ora sulla pagina della provincia. Lo dicevamo, peraltro dall'apertura scoppia la gomma del trattore un 31enne in condizioni gravi. È successo da Pignano, portato da Ancona con l'eliambulanza. Stava dando una mano nell'azienda agricola di famiglie quando improvvisamente, appunto, nel recuperare un trattore e nel gonfiare un pneumatico, l'opneumatico stesso è esploso e nonostante, appunto, l'uomo abbia cercato di ripararsi il volto con un braccio in ogni modo, l'esplosione è stata molto violenta, tant'è che i sanitari, subito corsi, allertati dai familiari, hanno deciso di trasportare il 31enne a Torrette di Ancona. Nel frattempo c'è stato anche un incidente e sempre, grosso modo, nel primo pomeriggio di ieri tre persone a Morrovalle sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave in uno scontro frontale all'imbocco della superstrada. Ancora notizie a Tolentino, più controlli nel villaggio degli Sfollati, i carabinieri tra i container, giro di vite dopo l'aggressione a due volontari, controlli potenziati. Ieri mattina i militari della compagnia di Tolentino al comando del tenente Antonio Masciarelli hanno fatto un sopralluogo per verificare la situazione. Al termine di questa verifica è arrivata la decisione di aumentare il passaggio delle pattuglie. Camerino, dopo due anni posso tornare qui. Consegnate altre 72 SAE, la commozione di una sfollata. Ne mancano ancora 102, arriveranno entro settembre. ieri la cerimonia di consegna delle 72 casette, come dicevamo, e sale a 201 il numero delle SAE, effettivamente consegnate a Camerino. Civitanova, gioielliera, aggredita e rapinata da due banditi, Manola Gironacci minacciata con la pistola, i ladri le hanno strappato borsa, e Catenina, ancora un grave atto di violenza. Civitanova, dopo quella subita pochi giorni da Daniele Maria Angelini davanti alla sua farmacia. Vittima di questo nuovo episodio delinquenziale è Manola Paola Gironacci, contitolare con il fratello della gioielleria Ibis in corso Umberto. massimo riservo sulla vicenda, e incerta anche la dinamica dei fatti, nei quali è maturata l'aggressione a scopo di rapina, e il teatro dei luoghi dove essa si è verificata. Un riservo assoluto che è più che giustificato. Secondo una prima ricostruzione, la Gironacci è stata aggredita al buio, verso le 21, tra Porto Potenza e Civitanova, mentre rientrava ad Ancona, dove pure ha un punto vendita diretta verso la sua boutique di corso Umberto. Un'auto si è parata davanti alla sua, dopo averla sorpassata, costringendola ad accostare. Due uomini sono scesi, aperto la portiera ha minacciato la donna con una pistola, quindi le hanno strappato la borsa che aveva con sé, oltre a una catenina che aveva al collo. Pericolo, ubriaco, sfreccio con l'auto a zigzag in via Moro, sempre Civitanova, bloccato dalla polizia dopo una serata di Bagordi, ma c'era tese denunciato per guida in stato di ebrezza. Batterio nell'acqua, l'emergenza, disagi e attesa, acquedotto inquinato, oggi l'esito dell'analisi dell'ARPAM, di vieto del sindaco, i residenti usano l'autocisterna. Andiamo ora a Ricanati, un altro luogo dove si è avuto un'inaugurazione importante della struttura ospedaliera, climatizzazione in ospedale, investiamo nel territorio, annunciato un potenziamento, nuova attacca in arrivo, inaugurazione con ceriscioli e maccioni, questa naturalmente l'inaugurazione. Del resto, torniamo un attimo a Civitanova, c'è stato anche il taglio del nastro per l'ortopantomografo, che di fatto è costato 65 mila euro, ceriscioli, parla di un nuovo investimento, meglio, una speranza di nuovo investimento da parte del nuovo governo, sulle strutture ospedaliere. Ancora notizie, ci spostiamo ora a Porto e Granati e a Porto Potenza, serie di tentativi e allarme, parliamo di truffa raffica, anziani nel mirino, falsa detta alla raccolta differenziata, colpo da 1500 euro, uno tra i, uno degli episodi, poi naturalmente c'è un altro, potremmo dire il copione, quello della fuga di gas, consegnateci tutto l'oro, o si rischia l'esplosione. Naturalmente, facciamo appello anche alla, diciamo così, all'attenzione, dei coloro che ricevano tali visite, e naturalmente prontamente deve essere denunciato un episodio del genere. Sempre a Porto Recanati, hotel house, trovato con l'eroina, segnalato un 33enne, controlli a tappeto della polizia, per sette persone, scatta il foglio di via, obbligatorio. Ci spostiamo ora sul Corriere Adriatico Macerata, Corriere Adriatico che in primo piano pone, ovviamente i nuovi servizi e le inaugurazioni, presso gli ospedali dell'area vasta 3, parliamo degli ospedali di Macerata, Recanati e Civitanova. Per quanto concerne il nostro comio maceratese, i nuovi servizi, potenziati alcuni reparti, ristrutturazione ultimata e apertura per oncologia, neuropsichiatria infantile, radiologia, il sindaco Carancini, una consuetudine, queste inaugurazioni, segno di programmazione. Quali sono stati, naturalmente, i reparti inaugurati? il reparto oncologia, poi gli ambulatori di neuropsichiatria infantile, radiologia e ovviamente la nuova centrale termica di cui abbiamo peraltro parlato. Il direttore Maccioni parla anche di progetti importanti in corso, lavori per la seconda risonanza magnetica e per rianimazione. Ha ricanati i nuovi impianti di climatizzazione, un investimento di mezzo milione, una risposta in tempi rapidi data alle esigenze dei pazienti e poi a Civitanova il rilancio parte dalla tecnologia, macchinari sempre più avanzati per il futuro della struttura. Naturalmente viene annunciato, tra l'altro, anche la fornitura futura di un attack mobile. Il concerto evento di Palmer debutta la rassegna Life 70, iniziativa organizzata da Hub in collaborazione con l'associazione Commercianti. Sarà il concerto, dunque, di Carl Palmer, storico batterista degli Emerson Lake Palmer, nell'ambito dello Sferi Stereo Live a dare il via a Life 70, iniziativa organizzata da Hub in collaborazione con l'associazione Commercianti, centro storico e associazione Giovani Marchigiani, patrocinata dall'assessorato alla cultura in programma il 23-24 agosto, una festa ispirata agli anni 70. Festa di cui, peraltro, parleremo approfonditamente con voci ed interviste alle ore 10, nella seconda parte di Oltre i titoli. San Severino, ragazzina cadete da un albero, ricoverata al Salesi, chiesto l'intervento dell'aliambulanza per l'azione di soccorso. E poi, tra le altre notizie che, naturalmente, non vi abbiamo ancora dato, Banca Marche, l'ipotesi in denizio per i piccoli azionisti beffati dal crack. Dopo i bond, il governo studia ristori per 400 milioni. Nella nostra regione sono 43 mila in attesa. Questo uno degli scenari. Tra gli altri, il moltiplicare per 5 il fondo salva risparmio portandolo da 100 a 500 milioni in quattro anni. Secondo la seconda proposta è estendere la possibilità di indennizio anche agli azionisti. Ancora notizie. Siamo a Camerino. Consegnate 72 casette. Interessate diverse aree della cittadina. Sono state realizzate anche aree verdi e giochi per i bambini. Civitanova, rapina shock, gioielliera, aggredita, un bandito era armato di pistola. La vittima è Manola Gironacci. Abbiamo parlato. E nello stesso tempo Civitanova però festeggia. Tra le altre notizie che è presente il Corriere Adriatico. Festeggia, dicevo, San Marone. Un programma ricco di eventi. Giovedì la processione in mare. Sabato nella città alta. Concerto di Dodi Battaglia. Finte dipendenti comunali messi a segno due truffe. I colpi a Villa Toresa e nel quartiere Le Grazie. Siamo evidentemente arrecanati. Rubati gioielli e un orologio. Succede non solo nella bella stagione ma certo è che il periodo estivo sembra essere quello più propizio per mettere a segno delle truffe. I carabinieri stanno risalendo alle responsabili acquisiti diversi elementi. Ancora notizie. Il caldo insopportabile nel negozio. Due giovani addetti colti da malore. Gli episodi a breve distanza. Di tempo l'uno dall'altro. Intervento del 118. Il trasporto in ospedale. È successo ieri mattina durante il consueto turno di lavoro. Immediati soccorsi. A porto recanati in un negozio. I consigli per evitare i rischi legati alle alte temperature di questi giorni naturalmente vengono riportate dal Corriere Adriatico. Ovviamente quello dell'idratazione. Quello di evitare bevande ghiacciate. Alcolici. Fare piccoli pasti. E poi naturalmente un occhio al meteo. Controlliamo i suoi rifiuti. Ira Giro frutta 1500 euro. Siamo a Portopotenza. Due donne entrate nell'abitazione di una 86 tenne e le hanno rubato i soldi. Ci spostiamo ora alle ore 8 e 47 minuti sui quotidiani online. Partiamo da Cronache Maceratesi. Le notizie in breve. La notizia di punta. La rapina sciocca a Civitanova. I banditi le tagliano la strada. Gioielliera minacciata con una pistola. La vittima è Manola Gironacci. Titolare della storica gioielleria. Ibis di Civitanova. E poi ancora notizie. La bohème in furgoncino. Li ricostruiamo a Castel Sant'Angelo. L'iniziativa. 54 musicisti. Hanno trasformato l'area assai in un teatro d'opera. La difesa di Osegale. Pamela è morta di overdose. Una perizia del medico legale Mauro Bacci incaricato dagli avvocati Matraxia Gramensi. Contrasta la relazione dei consulenti della procura per la quale la diciottenne romana è stata uccisa. Il disperato appello di un terremotato. Aiutatemi a tornare sulla costa. L'uomo che ha chiesto di rimanere anonimo vorrebbe lasciare l'entroterra dove è rientrato dopo due anni da sfollato. Il suo desiderio è trovare un lavoro che gli permetta di mantenersi. E poi a Montecassiano. La notizia e le foto. La piazza mira il principe Francesco De Gregori. Il concerto è stato un bellissimo viaggio in acustico. Tra i brani meno eseguiti dal vivo. Ma non per questo meno coinvolgenti. Eleonora abbagnato. Lo sferisterio si veste da suor angelica e tosca. Pioggia d'applausi per tutta la compagnia e ovazioni per la bionda etuale anche se il pubblico avrebbe gradito uno spettacolo più lungo. Pneumatico esplode mentre lo sta gonfiando soccorso dall'elembulanza. L'incidente in zona Forano di Apignano. Un uomo trasportato a Torrette. E poi Villalba. Macerata partita la demolizione. Ruspenazione nell'incrocio con Via Roma. Altre notizie in breve da MTV. A due anni dal sisma Ceriscioli. Si chiude l'emergenza. Si chiude l'emergenza e procede la ricostruzione. Il punto. Circa mille cantiere lavoro. Metà delle macerie raccolte. Tutte le casette consegnate tra il 15 settembre. Tutte le attività produttive che avevano fatto richiesta sono state delocalizzate. Due anni dalla prima scossa del sisma che ha sconvolto il sud delle Marche. Il presidente della regione in una conferenza stampa insieme alla Giunta ha illustrato il rendiconto dell'attività in corso sia per la gestione dell'emergenza che della ricostruzione. Altre notizie di AM TV. San Lorenzo in festa. Treia dal 10 al 15 agosto con il programma degli eventi. E poi le altre notizie. Il festival di Maria al Castello della Rancio di Torrentino. Decima edizione. Ci spostiamo ora su Picchio News. La gioielliera Civitanovese rapinata mentre torna a casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri e poi cade da una scala dietro casa bambina trasportata a torrette accaduto nel pomeriggio di ieri a San Severino. Marche guidava ubriaco e senza patente già ritirata per lo stesso motivo denunciato. Un marocchino lo hanno fermato mentre era al volante di una coupe Audi e quando lo hanno sottoposto a controllo il risultato è la guida con un tasso di alcol nel sangue superiore peraltro al doppio del consentito. Ci spostiamo ora sul Fermano con i titoli di Cronache Fermane il dramma tragedia Porto San Giorgio turista 82enne muore in acqua inutili soccorsi sul posto oltre ai bagnini della cooperativa Delta l'ambulanza della Croce Azzurra San Giorgese l'automedica della Croce Azzurra di Sant'Elpidammare gli uomini della guardia costiera e l'ambulanza l'82enne alloggiava in un agriturismo a fermo. E poi l'impatto il venerdì nero di fatto tra scutere auto della polizia grave un uomo arriva Icaro sul posto la Croce Verde di Fermo l'automedica della Croce Azzurra di Sant'Elpidammare gli uomini della polizia municipale dicevamo venerdì nero anche per un altro incidente uomo soccorso per una caduta l'uomo è stato soccorso da Croce Verde di Fermo l'automedica della Croce Azzurra di Porto San Giorgio sul posto anche la polizia locale. Incendio a Casette Deti in un appartamento nella notte paura per due anziani e poi uno scontro a Porto San Giorgio all'incrocio maledetto un giovane all'ospedale. Le altre notizie ora ad Ancona con Cronache Ancona stroncato da un malore mentre lavora tragedie in una tenuta agricola a perdere la vita un operaio di 45 anni di origine romena regolarmente assunto da una tenuta che si trova a Paterno la procura ha aperto un fascicolo sulla tragedia ha disposto l'autopsia sul corpo dello straniero si chiamava Cristinel Postolac e poi ancora notizie rapina sciocca al titolare di Ibis paura per Manola Gironaci i banditi le tagliano la strada e la minacciano con una pistola incendio in casa Castelfidardo uomo salvato dai carabinieri l'artigiano disperato per il rogo che stava consumando il suo capanno attigo all'abitazione si è accasciato per lasciarsi morire nel rogo provvidenziale all'intervento dei militari e dei vigili del fuoco di Osimo queste le notizie da Lanconetano ed ora un occhio alle previsioni metodo al sito geofisico.it centro di ecologia e climatologia osservatorio geofisico sperimentale di Macerata le previsioni per oggi sabato 11 agosto cielo sereno poco nuvoloso sulle marche temporanei addensamenti nuvolosi sui monti venti deboli da ovest nord ovest temperature stazionarie mare quasi calmo le previsioni per domani domenica 12 agosto sulle marche avremo un cielo sereno poco nuvoloso al mattino incremento della nuvolosità dal pomeriggio in serata basse probabilità di locali piovaschi venti deboli settentrionali temperature in lieve diminuzione mare poco mosso ore 8 e 52 minuti termina qui questo primo spazio dedicato all'informazione locale torniamo alle ore 10 con approfondimenti interviste e le voci dalle marche tutto naturalmente in diretta su Radio Nuova Macerata e poi il giornale radio in onda alle 12 e 30 a 18 e 40 a 22 e Marche Infinita Cultura l'appuntamento la rubrica dedicata agli eventi sul nostro territorio che va in onda su queste frequenze alle ore 13, 10, 17, 15, 19, 40 contenuti giornale radio Marche Infinita Cultura ma anche la rassegna stampa che trovate sul nostro sito radionuova.com da riascoltare quando volete da parte di Marco Morosini Studio grazie dunque per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi